Oltro che decorazioni... È giunto il momento di stare bene. Dunque ho deciso di colorarla utilizzando questa tecnica primitiva che mi venne su dall'istinto e dalle situazioni contingenti, cioè senza una lira e senza nessuna esperienza e senza nessun aiuto di qualcuno che mi poteva aiutare a farla senza perdere tempo. Per cui siccome ho paura che si possa rompere nella cottura, ho deciso di fare questa cosa qui, di colorarla a mano. Inizio dandogli... Ho preso un po' di vino a villa allungato con l'acqua e gliela do sopra. Comincio dal di sotto, dai paletti, dalla simbologia fallica che stanno a protezione della tomba del divino. E intanto che gli do il fissaggio della colla vinavilica voglio parlare un po' di quello che sta succedendo, che è successo ieri. Cosa che ho seguito in diretta da qui mentre ero a cena con una mia carissima amica. abbiamo visto in diretta la sparata del Presidente del Consiglio Antonio Conte. è una persona che non gode della mia stima neanche per sbaglio. E allora seguivo... seguivo con la mia amica... questo annuncio da parte di Conte e siccome sapevo già che mentiva, no? non stavo ad ascoltare i suoi discorsi ma cercavo di seguirne conoscendo io un po', un po', eh, sono solo un po' perché ho visto semplicemente qualche video del linguaggio comportamentale. Cioè che noi possiamo dire le cose ma il nostro corpo non può mentire, non mente mai da dei segnali dove tu, vedendoli, riesci a capire in realtà come la pensa quello che sta parlando. E ho notato che tutte le cose che diceva seguivano sempre o un serramento di labbra o di l'alzata di spalle insomma era chiarissimo che stava mentendo sapendo di mentire ma usando le supercazzole che al popolo italiano, alla maggioranza del popolo italiano che poi in questo momento è quello che fa la differenza, no? Perché è sempre la massa critica quella che cerca di tenere sedata e manipolata il potere ovunque si stia manifestando in questo momento sul pianeta Terra. E allora mi sono accorto che stava mentendo spudoratamente, no? Facendo questo sforzo, questa recita di apparire il bravo. In effetti adesso che non c'abbiamo più una lira, no? E poi adesso con questa bala del coronavirus è ancora più evidente che hanno fermato quelle poche attività che riuscivano a sopravvivere adesso nella merda ci siamo tutti, no? Però fino a poco tempo fa ci si vergognava a dire che si erano rimasti senza soldi perché ci hanno talmente manipolato che sembra che se tu sei senza soldi è colpa tua non vali, non sei in grado di essere una persona degna di considerazione non hai valore, non sei, come si dice per mettergli un'allusione sessuale sei impotente, sei un impotente se non hai soldi e qualcuno a monte, no? impedirsi all'acqua di entrare nell'acquedotto nelle tubazioni, arrivare a casa tua e questa cosa quando succede tutto l'avvio di tipo è colpa mia allora questo è il dante finito per il momento magari vi faccio una ripresa un po' più adesso i pilucchi li farò quando si è asciugata bene però questa è la base del mio dante fatto con la tecnica del bambino di quando iniziai a fare i primi pupazzi come disse un mio amico anche te con i tuoi pupazzi ecco finito spero che vi piaccia come piace a me dovrò fare qualche cosa con il basamento ci penso, ci penso, ci penso non voglio farmi fregare della fretta per adesso basta così vado invece tu ciac si gira c'è sta macchina vabbè giusto ti dà fastidio oltro che decorazioni oltro che decorazioni ridilo un po' più oltro non mi pensavo non mi pensavo mi pensavo oltro che decorazioni mi pensavo oltre che decorazioni Ma la pace che c'è, fa sballare anche me Il mio cuore ora sa, volare lontano Con la pace del cielo, sempre dentro di me C'è, 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 c'è Però tanto lo sai Che la sognavamo Ma quanto è meglio così Che se andessi siamo qui Non abbracciati poi Vola nel cuore Che la forza del sé Che il cuore che c'è Che, 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 che Che il momento del palo Che, 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 che Che la forza del sé Che, 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 che Che, 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 che la forza del cacao Pace, pace c'è Ora amo anche te Amo anche te Sì, sì, sì Amo anche te Pace, pace c'è 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 Pace, pace c'è oltro che decorazione